Più Frecciarossa ad Arezzo. È il gruppo consigliare del Partito Democratico e Aretino ad intervenire nuovamente sul tema dell'alta velocità. Il governo Meloni e il ministro delle infrastrutture Salvini vorrebbero realizzare, sbagliando, la stazione alta velocità per la Toscana Sud della regione Umbria a Creti, si legge in una nota. Per quanto riguarda la stazione di Arezzo, ormai da diverso tempo, sia verso Milano che verso Roma, sono diminuite le fermate dei treni Frecciarossa ed alta velocità. Nella relazione ministeriale è stato segnalato che la stazione Aretina è un riferimento per l'alta velocità. Al suo interno, proseguono, viene richiamato in attesa della realizzazione della stazione alta velocità dal 2028 in poi, di poter procedere nell'immediato all'individuazione di maggiori fermate di treni Frecciarossa e alta velocità alle stazioni di Arezzo e Chiusi. Il sindaco di quest'ultima città, in collaborazione con il gruppo consigliare del PD Arezzo, ha inviato una specifica richiesta alla regione Toscana per richiamare il governo nazionale Trenitalia all'incremento delle fermate dei treni Frecciarossa e alta velocità anche nel capoluogo Aretino. Questo appello, rivolto anche al sindaco di Arezzo, è stato sottoscritto da numerosi primi cittadini della provincia di Arezzo e quella di Siena, ma non da Alessandro Ghinelli, che conclude il gruppo consigliare del PD è impegnato in altro e poco presente in città ed ha deciso di non tutelare Arezzo e gli Aretini.